22 giugno 1987. Muore a Los Angeles il grande attore e ballerino di Tip Tap, Fred Astaire. In coppia con Ginger Rogers, è protagonista di 10 film musical che ottengono tutti un enorme successo di pubblico. Grazie alla sua tecnica di ballo innovativa e originale, Fred Astaire rende il Tip Tap una vera e propria forma d'arte. Nel 1950 gli viene assegnato l'Oscar alla carriera.